Il secondo McDonald's della Lucchesia dopo quello in Viale Europa a Lucca aprirà i battenti su un altro Viale Europa, quello del comune di Capannori. Il fast food americano, che sembrava dovesse sbarcare a Porcari, ha invece presentato domanda al SUAP del comune capannorese per aprire un fast food nel nuovo centro commerciale che sta sorgendo a Lammari, tra la pizzeria Marameo e il bar Masini. Dato che la superficie prevista del locale è inferiore a 400 metri quadrati, il comune è stato obbligato ad accettare la richiesta, anche se il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha storto la bocca. Io ho avuto modo di dire più volte che non sto con gli hamburger, io sto con i tordelli, perché credo che il territorio debba valorizzare le tipicità e i prodotti locali. Naturalmente esistono delle leggi, dei regolamenti e noi alle leggi e regolamenti ci atteniamo, per cui se il McDonald's ha fatto richiesta e questa richiesta corrisponde ai requisiti normativi, è chiaro che un sindaco non può dire di no. Stiamo valutando, ho chiesto agli uffici di produrmi tutta la documentazione relativa e nei prossimi giorni valuteremo il da farsi. Però, ripeto, il sindaco di Capannori ha fatto politiche in questi anni di valorizzazione della produzione locale del chilometro zero della filiera corta e continueremo a farlo anche nei prossimi anni, con e senza il McDonald's. Il McDonald's alla Capannorese avrà una superficie di 300 metri quadrati e sarà dotato anche di McDrive, cioè si potranno acquistare hamburger e patatine senza scendere di macchina. Previsti 40 posti di lavoro. L'ondata di invio dei curriculum degli aspiranti addetti è già partita.